Sono Maria Rosetta Marabina, ho 38 anni, sono una donna con un disastro fisico e sono liberamente dichiarata vesplica. Tutto questo mi comporta una serie di discriminazioni. Essere donna nella notorietà di oggi vuol dire ancora essere considerati inferiori agli altri. Avere un disagio fisico o di avere continuamente dei limiti. Non poter fare liberamente le proprie sette come tutte e tutte e non poter vivere la propria sessualità liberamente perché la nostra società, una persona con disabilità, non dovrebbe amare. essere amata e soprattutto non diverso mai che abbia un rinnovento sensuale diverso da quello che viene considerata la norma. Le barriere sono tante sia a livello architettonico che a livello culturale. è una persona con disabilità e continuamente limitata negli spostamenti. è una persona che vive un allenamento sensuale diverso e continuamente discriminata al lavoro nella vita quotidiana. Nelle periferie le chiusure mentali e culturali sono maggiori. nella città diminuiscono le chiusure mentali e culturali. ma erano molto più presenti le barriere architettoniche. Quindi, una persona con disabilità si trova abbandonata nelle periferie, ma in città non potrebbero essere liberi di girare autonomamente. Poter al popolo rossa per far sì che tutte queste delle differenze locali non siano un ostacolo non siano un ostacolo, ma che siano una riduzione. Io mi sento una riduzione. Dichierano che io non dovevo nascere, che non dovevo brindare, che non dovevo fare l'amore. Io ho il velo e il bacio di tutto e di più. E non cambino pure poter proporre. Grazie a tutti.